E' pericolosissimo. Allora, stai tranquillo, guardami, scresce una sedia, stai tranquilla, guardami, guardami perfetto così, rilassati, guardami, guardami ancora, perfetto, rilassati, guardami, apri gli occhi, guardami, guardami, abbandonati, 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 perfetto così. Ci sono sempre io, rilassati completamente, ancora, rilassati tranquillamente, sempre di più, sempre di più, perfetto, abbandonati tranquillamente a voi, ascoltami, faremo un solo esperimento, ci sono sempre io, io ti sto toccando, faremo un solo esperimento. Da questo momento sei su una macchina, sei su una macchina, mani sul volante, mani sul volante così, al mio via, sono le chiavi adesso, al mio via, non c'entra di posizione, via, lentamente, perfetto, tranquilla così, perfetto, ecco così. Sei in salita, sei in salita, notate i movimenti, perfetto, ecco così, continua l'autopasseggiata, continua l'autopasseggiata, perfetto, così, ecco così. C'è la discesa? Adesso c'è un signore che ha fatto stop, c'è un signore che ha fatto stop, fallo salire. Perfetto, perfetto, ecco, e continua l'autopasseggiata, e continua l'autopasseggiata, perfetto. Continua l'autopasseggiata, ancora, continua l'autopasseggiata, perfetto. Adesso il signore ti accarezza, ti accarezza sempre di più. Il signore comincia a provarci, ci prova sempre di più, 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 sempre di più. Stop! Stop! Questo è bellissimo perché, inconsciamente, Mara, lei si rifiuta. Si vede che non sei il suo tipo. No, 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 perché lei si rifiuta, no, inconsciamente, inconsciamente lei si rifiuta di fare l'avventura con molta facilità, ecco. Certo. Faremo? Ascoltami, adesso ti sentirai tanto caldo. Tanto caldo, 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 aumenta, il caldo 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 aumenta, 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 è tanto caldo, è tanto caldo, sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più, aumenta, 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 no, no, ancora un momento è caldo, aumenta, caldo. adesso adesso sei pieno di vincenze no 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 perfetto grazie Giucas io so che ho dato un dolore a tanti telespettatori ma dovevo intervenire copriamo la signorina Salerno scusa lo so caro Giucas tu mi combini un guaio dietro l'altro svegliala svegliala scusa deve cantare una canzone adesso io conterò da uno fino a tre e al numero tre ritornarai normale come prima e starai bene ti sentirai in piena forma non ricorderai nulla di quello che hai fatto non ricorderai nulla di quello che hai fatto ti sentirai in piena forma uno due starai bene tre buongiorno scusa eh Sabrina scusa eh niente niente tutto bene tutto benissimo è arrivato il momento mentre tu rianimi questi quattro disgraziati qua che sono rimasti sabrina eh tutto bene no e che è successo niente 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 non è successo niente e sabrina Salerno è qui aspetta che vediamo che sono i gesti sabrina vai a ricomporre no 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 tutto bene non è successo niente ma che mi ha fatto esatto tu sei stata ma io sono intervenuta giusto non ti preoccupare intendo due eh lo so che mi dispiace tre buongiorno sveglia un sal sinko un salکlio Everybody una salka è mai toshel? commenti che ardi Grazie.